Prosegue il dibattito sul decreto rilancio, dibattito che a noi sembra pura fuffa. Questa lunga e interminabile polemica della maggioranza, interna alla maggioranza, che ha causato già un rinvio da aprile a maggio e che ancora non è arrivata a termine, nasconde in realtà è solo fumo negli occhi, perché Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si devono accordare su come muovere i soldi da una parte all'altra. Sono insomma indecisi a cosa rinunciare e a chi scontentare, tenendo conto del danno elettorale che inevitabilmente andranno a infliggersi, quindi stanno cercando di minimizzarlo. Ma stiamo parlando semplicemente di marchette, marchette che si spostano da una parte all'altra, marchette elettorali. Ora, finanziamenti a fondo perduto non ce ne sono, la potenza di fuoco di cui tanto si è vantato Conte non si è assolutamente vista, e quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una realtà molto semplice. Lo Stato italiano non ha un euro, si è indebitato selvaggiamente nel corso dei decenni e ora ne paga le conseguenze. Il brutto è che non possiamo neanche dare solo la colpa ai politici, perché lo Stato assistenzialista, lo Stato divoratore di risorse, lo hanno voluto gli italiani, lo hanno votato costantemente, hanno votato a destra e a sinistra per chiunque presentasse questa strada illiberale, debito pubblico. In nome di cosa? Di niente. Perché, parliamoci chiaro, non venitemi a dire che in Italia si è posto rimedia alla giustizia sociale, cioè si è posto rimedia alle disuguaglianze, si è portata avanti alla giustizia sociale. Non è vero niente, è solo retorica. Si è trattato soltanto di cercare di mangiare l'uno alle spalle dell'altro con soldi che spesso nemmeno c'erano. A questo punto è inutile anche chiedersi perché le banche pongano resistenza e non finanzino a volentieri chi va a fare richiesta in questi giorni. Le banche stesse sono convinte che lo Stato italiano alla fine sarà insolvente e quindi non prestano. Ma voi fareste diversamente? Non lo so, non credo. In sintesi, tutto quello che noi possiamo avere è una partita di giro perché i soldi veri non ci sono. Di conseguenza è inutile sperare in altro. Forse potremmo lemosinare un piatto di lenticchie in Europa col probabile risultato di infilarci il cappio al collo, anche in questo caso, perché i pasti gratis non esistono. Anche questa naturalmente è colpa nostra. I nostri politici di sinistra, come quelli di destra, fin dall'inizio del lockdown hanno presente una sola cosa. Gli italiani hanno un sacco di risparmi in banca. Gli unici soldi veri che si possono utilizzare per uscire dalla crisi sono quelli e lì andranno a prenderli. La chiameranno patrimoniale, la chiameranno in un altro modo, ma i nostri soldi, quelli che voi avete messo in banca per le vostre famiglie, sono gli unici soldi veri in Italia e quelli verranno utilizzati. A noi, lavoratori, verrà chiesto di lavorare di più e guadagnare di meno. Su questo sono pronto ad accettare scommesse, sicuro di vincerle purtroppo.